Ciao a tutti ragazzi e ragazzi qui è ShakyDegaman e bentorni sui nuovi seri sui nuovi video Come sempre lasciate un like per supportare il mio canale Oggi ci troviamo In realtà su Youtube perché Secondo Una Una suggestion Di Alex5443 Faremo un nuovo video Su Neil.fun Perché ha aggiunto Ben 4 nuovi Giochi Quindi iniziamo Tra l'altro appunto shoutout Alex5443 Shoutout Aspetta Mo non c'è nessun video Ah no 8 video Eh si Shoutout a lui Iscrivetevi 124 iscrivetevi Ah mi scrivo anche io Non l'avevo visto Iscrivetevi All'Alex5443 Ma comunque Ora Space elevator Welcome to space elevator Vi ho l'elevator Let's go to space Grazie Grazie Non l'avevo capito Siamo nella troposfera Ovvero la Il più basso layer Dell'atmosfera E nella troposfera C'è il 99% Del Vapore e acqua Nell'atmosfera Wow GG E queste che Fanno la pioggia Schifose Evento Odio la pioggia Eh sono Le Nuvole Nimbostrate E Wow Ora ho paura Perché Il Il normale Cioè Il normale Come si chiamano Quelli che si buttano Agli elicotteri Eh In generale Lo fanno Da 3000 metri In altezza Eeeh Wow Che è la stessa Altitudine Di una Di una Farfalla Wow Ah ma vanno in alto Eh sia comunque Abbastanza freddo Mettiamoci una Scar Una Scar Meno 8 Grad Ah poi Cambiare A fare No Ehm Ehm Pappappappapp Oh le nostre Capre Signori Raggiungono 3775 Metri Di altezza I nostri Capri I nostri Fenicotteri Signori Fenicotteri Oh Non Cioè Fanno cose Incredibili Cioè 4347 Metri In altezza Uno Yak Raggiunge 5143 Credo che Verrò Ehm Copyrightato Se faccio Valle Vittor Minosic Quindi Non la metto Un calabrone Può volare A Highest Observed Flight Perché Se no Un calabrone Può volare Fino a 5600 Metri Di altezza Eh Aspetta Cioè Che Cosa è Questa Parola Insieme Con Questa Ragno Saltante No Grazie Io non Andrò Mai Nel Himalaya Ragni Che Saltano Mamma Mia Ehm Da questa altitudine C'è la Death Zone Perché Non c'è Abbastanza Ossigeno Per La vita Umana E abbiamo Raggiunto Il monte Everest Yeay 8.791 Metri Deco Niente Qua Quindi 8.900 E A 9100 Metri Più o Meno Si Esplodono I palancini Si Sono Scappati Così Sono Fluttuati Dall'elio Ehm I cirro Cumuli Ehm Si formano Qua Vabbè E abbiamo Aggiunto Il Lo Space Shuttle Ok Mettiamoci una tuta Perché Ehm Intanto Farà molto più Freddo Perché Ehm Ah no Ehm C'è C'è Meno pressione Soprattutto Quello Ehm Oh mamma mia Che Sti venti Jet streams Forti venti Che possono Raggiungere 450 km Meteorari Ehm Ehm Abbiamo Raggiunto La Stratosfera Qui c'ha Ah L'ozono Che lo stiamo Tanto Distruggendo Ehm Nella Invece che Nella Trofosfera Nella Ehm Stratosfera La temperatura Più 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 caldo fa Ehm Si chiama adesso L'armstrong limit Ehm Sopra quest'altitudine Non C'è I tuoi liquidi Ehm Bolliranno Wow E quindi Morirai Narchus clouds Are rare clouds Found in polar regions They are made of small ice particles That scatter light in colorful ways Belli Fighe Ove là Ehm As the earth gets thinner There are fewer molecules That scatter light So the sky Starts getting darker Quindi Quindi ci sono meno molecole Quindi La luce Rimbalza Per Per meno molecole Quindi Se infatti Sta iniziando a diventare Sempre più Buio Buu Sempre più buio Appappappapp Wow Ehm Ehm Effettivamente Incredibile Cioè La La nube Tipo di polveri E di La pilli Delle eruzione Che ha distrutto Pompei Ha raggiunto 3300 metri D'altezza Come Wow Aspè Cosa As the first person To break the sound Barrier In free fall Cioè Sei buttato D'altezza E Ha letteralmente Rotto La barriera Del suono 1356 KM 4 orari Va Ok E Siamo Abbiamo fatto 0,01% Della Cosa per Arrivare Alla luna E Wow La nuvola Nucleare Insomma Del Testo nucleare Castle Bravo Ha raggiunto 3950 39500 Metri Mamma mia Wow Cioè Un testo Si è Buttato Da 41500 Metri D'altezza Questi versò Sono pazzi E Papapapam Qua dice Degli Space Elevators Giustamente E Abbiamo raggiunto Una meteora GG Oh Lo Space Shuttle Si sta Distruggendo Wow Che cosa Sono Sti Cosi Blue Jets Sono Una rara Forma Di Di Fulmine Wow Bello E Siamo Arrivati Alla Mesosfera Eh E Siamo A metà C'è Quest'altro Pezzo Di strada E Abbiamo Siamo A metà Nella Via Per arrivare Allo Spazio E C'è C'è L'1% Della Pressione Rispetto Alla Pressione A livello Marino Wow L'ascensore Più Velocità Al mondo Viaggia A 74 Km Rari E Un Un Ascensore Con la Stessa Velocità Ci prenderebbe 80 Minuti Per arrivare Allo Spazio Wow Oh Non c'è Tanto Non c'è Niente Per tanto Wow La Nuvola Nucleare De La Tsar Bomba Arrivata A 64 300 Metri E Che è La morte Nera Di Star Wars Mamma mia Sprites E Un'altra Un'altra Forma Di Fulmine Solo Una frazione Di secondo Wow C'è Mentre Un normale Fulmine Può essere Solo 4 km Al massimo Sprites Possono Arrivare A 50 Km Wow Sono Bellissimi Tra l'altro Wow Eh Detto Che è Così Freddo Il Suono Viaggia 15% C'è Più Piano E Che Bello Noctilucent Clouds Sono Le nuvole Più Alte Sono Visibili Durante La notte Belle Ah Tipo Quelle Che Si Vedano Nello Spazio Tipo Ah Che Quelle La Tipo Sulle Foto Avete Presenza Sulle Foto De Della Terra Che Si Vedano Quelli Nubi Cosmeters Burn up Ok Oh This is the coldest power of earth's atmosphere Mino 84 gradi centimetri The Thermosphere Oh L'ultimo livello A 100.000 Kilometri Insomma Inizia Lo spazio Quindi ci siamo quasi Thermosphere Cioè Si può arrivare fino a 2500 gradi Ma dato che Le molecole Sono così lontane Non puoi Non puoi neanche Sentirlo Oh Sì Sì Qua si creano anche le aurore boreali Che belle Non l'ho mai vista una Non l'ho mai vista una Cioè Wow Si muove Non l'avevo vista Stai per Raggiungere Un 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 posto Dove Meno di Mille Umani Sono mai stati Nella storia Ecco Qua siamo Nello spazio Molto bello E ora Quindi Avete visto Quello che È successo Cioè Quello che Per cui avete Cliccato Quindi Io spazio Di concludere Questi episodi Qua E noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao ragazzi E E Grazie.